Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 16 gennaio giovedì. Allora, che cosa c'è sui giornali? Il dato politico più importante oggi sui giornali riguarda la critica che viene mossa al Movimento 5 Stelle. Come sapete ci sono 15.000 candidati potenziali del Movimento 5 Stelle per i 1.000 seggi che si attribuiscono tra Camera e Senato e per fare la corsa a questi 1.000 seggi 15.000 si sono iscritti alle cosiddette parlamentarie. È uno strumento via internet al quale si fa una selezione. La selezione la dovrebbero fare gli iscritti del Movimento 5 Stelle con una supervisione che non si capisce bene fatta da Di Maio, Grillo, Casaleggio, insomma non è la cosa più trasparente del mondo anche se loro pensano di raccontarci che questa sia la cosa più trasparente del mondo. In più c'è un altro problema che tutti quanti i candidati che sono in questo il giornale, mi sembra che abbia ragione, abbia colto il senso nei giorni scorsi, che sembrano partecipi a un concorso pubblico, non alla selezione della classe dirigente che dovrebbe governare questo paese, fanno ricorso se ci sono ritardi, se non vengono esclusi senza motivo. Cioè questa specie di, come posso dire, cultura del cavillo che quelli che non sono ancora candidati del Movimento 5 Stelle stanno esercitando per essere candidati e trovare finalmente un posto di lavoro. Il giornale titolava 12.000 su 15.000 senza posto di lavoro e lo cercano in Parlamento. Ma il punto è la ridicolaggine di queste parlamentarie, non voglio aggiungerla. Però vi voglio anche dire una cosa, cerchiamo anche di essere un po', come posso dire, equilibrati. Le parlamentarie saranno ridicole e sono ridicole. Ma chi ha deciso che Grasso, presidente del Senato, sia il leader di Liberi e Uguali? C'è stato un movimento democratico che l'ha scelto? O una scelta fatta da D'Alema e da Bersani, da qualche amichetto suo? Chi ha deciso che la Boldrini e in quale collegio verrà candidata la seconda carica, la terza carica dello Stato, se non Liberi e Uguali? Chi ha deciso i candidati del raggruppamento di Forza Italia e della Lega e della Meloni? Ci sono state delle primarie o ci sono state delle segreterie di partito? In quali forme, in quali vesti le hanno... Forse il PD effettivamente le primarie le ha fatte, ma anche quando ci sono le primarie del PD, come oggi c'è lo scandalo sulle parlamentarie che non funzionano bene, mi ricordo gli scandali dei cinesi, dei coreani, dei vietnamiti che andavano a votare in fila per le primarie del PD. La scelta della classe dirigente è non cosa semplice. Certo, prendere in giro il Movimento 5 Stelle e soprattutto loro che fanno no con questa specie di arroganza di essere i migliori e più trasparenti di tutti, beh, certo, questo se lo meritano, ma non che gli altri, insomma, gli altri forse potrebbero un po' tacere in questo momento invece che fare i fenomeni. Secondo il Foglio, Calenda è il vero anti di Maio, lo spiega bene Cerasa, perché Renzi non gli aregge la pompa e Gentiloni non può diventare l'anti di Maio, invece Calenda è il physique du rôle secondo Cerasa. Cerasa fa il suo mestiere, dice le cose di un'elite, diciamo di centrosinistra, Renziana, che oggi la pensa in quella maniera, anche in questo caso, voglio dire, si tratta di un signore che fino a prova contraria nessuno ha stabilito che abbia alcun consenso elettorale. Scalfari ieri partecipa a 8 e mezzo e dice tante cose, del tutto, voglio dire, con quest'area, con questa prosopopea, da io posso fare le cose, posso investire, poi mi ero eggiato sui titoli, insomma, dice delle robe come per dire tutto tranquillo, io penso che bastava per Scalfari leggere i suoi giornali e capire come invece tutta quella tranquillità non sarebbe stata accettata dal suo giornale se fosse stato a comprare quell'azione due giorni prima del decreto qualsiasi altro imprenditore italiano, men che mai Berlusconi, ma qualsiasi altro imprenditore italiano. La cosa più simpatica che ieri ha detto con questa sua arroganza incredibile, oggi lo nota il giornale che apre su questo, è che Scalfari, secondo lui, è un rincoglionito. Scusate il termine, ma è quello che più o meno ha fatto capire ieri da par suo De Benedetti a Scalfari, cioè questo atteggiamento sussegoso, come per dire quel povero vecchio. Beh, insomma, da che pulpito uno potrebbe dire, non sostengo che nessuno di due sia rintronato, ma insomma quando vedi due signori anziani che si sono rintronati l'uno con l'altro, beh, insomma, provi un po' di tenerezza per chi lo riceve e per chi lo dà. Due cose che invece non mi fanno provare tenerezza e sulle quali i giornali oggi, soprattutto quelli di centrodestra, ma non solo parlano, è una vicenda che riguarda un giudice a Bologna. Un giudice del Tribunale Amministrativo decide, una volta che una giovane avvocata con il velo, non totale, non era un burca, entra in aula e lui gli fa notare che non può entrare in aula e dice, lei o si toglie il velo o esce dall'aula. L'avvocato esce dal Tribunale e leggo dal Corriere di Bologna, contro il Consiglio di Stato, il CSM vuole iniziare un'inchiesta e poi la rubrica è Giustizia e Integrazione. Ecco, io questo contesto, lo fa forse oggi Belpietro sulla verità. Giustizia e Integrazione non c'entrano nulla, anzi il contrario è disintegrazione, non giustizia e integrazione. Cari amici miei del Corriere di Bologna, che dite che questo magistrato è un pazzo, sapete cosa vi dico? Tutti gli altri magistrati sono pazzi se non fanno uscire dall'aula la donna col velo. E sapete perché? Per un motivo molto semplice che leggo nello stesso giornale e nelle stesse cronache del Corriere della Sera di Bologna. Articolo 129 del Codice di Procedura Civile, non si può entrare in un'aula di un tribunale con un bastone, con un'arma e con il capo coperto. Allora cambiamo il Codice di Procedura Civile. Se si può entrare in un'aula con il capo coperto, anche i carabinieri possono tenere il berretto, cosa che non possono fare. Anche io posso entrare col cappello da baseball, in un'aula di tribunale non si entra con il capo coperto. Chiaro? Non entra un carabiniere, non entra un avvocato musulmano, non entra un Sikh con il turbante. Questo è previsto dal Codice di Procedura Civile. Va bene? Allora, possiamo cambiarlo? Vogliamo essere sottomessi come Urbeck e cambiamo il Codice di Procedura Civile perché dobbiamo permettere agli avvocati col velo di entrare in tribunale? Facciamolo. Io sono contrario, ma facciamolo. Ma fino adesso il magistrato ha fatto rispettare la legge, gli altri magistrati che la fanno entrare non la fanno rispettare. Allora, vuol dire essere antimusulmani? Questo no! Vuol dire esattamente il contrario. Se un avvocato musulmano vuole esercitare in Italia ed è un'italiana o è anche una musulmana straniera facesse quello che vuole andasse dove gli pare in un luogo pubblico non entra con il velo perché fa parte della nostra tradizione. Questo lo dico io. Non lo dice il magistrato, anche se lo accusano. Va bene? Sarò un razzista? Sarò come Fontana che parla di, che ne so, di cultura di nostra società? Voglio dire, la società si difende anche con questi piccoli gesti. Allora, io ve lo dico con grandissima franchezza. Io non trovo nulla di scandaloso che una donna si metta il velo. Nulla. Sono affari suoi. Si vuole mettere il velo, quel velo. Là, sul Burka, c'ho qualche dubbio. Ma se c'è una legge che prevede che non si entra in tribunale col volto e con il capo coperto punto, si rispetta. Non è che i giornali devono far finta che sia stato un atto sedizioso da parte di questo magistrato. Almeno temo. Se no, con lo stesso criterio che facciamo che il magistrato questo è un magistrato amministrativo il magistrato civile, il magistrato penale alla fine accetta usi, costumi e tradizioni di mondi diversi dai nostri posto che gli usi, i costumi e le tradizioni codificate nelle nostre leggi sono figlie della nostra tradizione e della nostra cultura. Io penso che il magistrato faccia rispettare le leggi. Vado oltre. Questa cosa del giudice a Bologna ovviamente questo poveraccio sarà massacrato dai suoi colleghi per primi che faranno esattamente il contrario. Questo è un paese in cui un comico Gene Gnocchi che fa ridere lui e il pubblico della sua trasmissione sulla Sette quando fa vedere la foto del maiale di Roma di cui oggi parlano tutti i giornali fa vedere quella foto del maiale di Roma e Gene Gnocchi dice quel maiale si chiama Claretta Petacci. Va bene? Quel maiale. E il pubblico ride! Il pubblico, questi deficienti del pubblico ridono! Va bene? Ridono! si mettono tutti a ridere se dici che un maiale è Claretta Petacci. Ridono! Va bene? Io vi leggo che cosa diceva Pertini di Claretta Petacci. Non Nicola Porro non il figlio di un gerarca fascista non un candidato di Forza Nuova. Sandro Pertini diceva che la sua unica colpa di Claretta Petacci è di aver amato un uomo sbagliato o un uomo va bene? Allora com'è possibile che si possa definire una donna che come dice oggi Mattia Feltri leggetevolo sulla stampa viene impiccata al contrario le tolgono le mutande le fanno uscire il seno la alinciano in pubblico solo perché si è fatta trovare con Mussolini nel momento suo di maggiore debolezza bene non solo è stata umiliata da una piazza schifosa che era quella di Piazzale di Loreto chiaro? Quella è una piazza schifosa disgustosa che deve fare ribrezzo in un paese normale ma è stata anche uccisa una seconda volta e sfregiata una seconda volta da una piazza altrettanto disgustosa di un pubblico che non riesce a capire che definire Claretta Petacci un maiale una donna che è stata uccisa senza alcuna dignità per sé per la morte per chi l'ha fatto si mettono a ridere sono disgustosi e nel frattempo la Boldrini è zitta la Bonino è zitta le femministe sono zitte il corpo della donna è silenzio tutti così tranquilli perché di Claretta Petacci uccisa disgustosamente in una piazza da dei barbari perché quella è barbarie si può definire un maiale e tutti che ridiamo come se nulla fosse nel frattempo ci preoccupiamo in questa straordinaria democrazia di offendere un avvocato musulmano perché entra in un'aula di tribunale con il velo quando il codice di procedura civile ci obbliga a togliere qualsiasi cosa abbiamo sul capo di fronte a un magistrato questa è la situazione del nostro sistema politicamente corretto radical chic come diceva Tom Wolf per cui tutti quanti ci adeguiamo in silenzio ciao grazie